Arrivano nuovi fondi per i lavori di risistemazione del Palagalli. Nei giorni scorsi, attraverso una delibera di giunta approvata all'unanimità, l'amministrazione comunale ha stanziato 130.000 euro per gli interventi da effettuare allo stadio del nuoto, che vanno ad aggiungersi al 1.250.000 euro messo a disposizione dalla città metropolitana. La decisione è stata presa in conseguenza del fatto che la vasca è stata inserita nel circuito delle gare di interesse della Federazione Italiana Nuoto, con cui è stata stipulata una convenzione con il Comune a luglio 2022, nonostante le forti smentite che erano arrivate in quel periodo e perché necessita di urgenti interventi di manutenzione straordinaria, così come scritto nella delibera. All'interno della stessa si legge anche che la FIN ha trasmesso un verbale di accertamento evidenziando la necessità di effettuare gli interventi in tempo brevissimo, anche in considerazione degli eventi che si terranno. L'organo federale ha fatto una stima dei costi per gli interventi negli spogliatoi che si aggira sui 38.000 euro. In queste settimane all'impianto di Viale Lazio è presente una squadra di operai che si sta occupando, in particolar modo, del rifacimento del manto di copertura degli spogliatoi, dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto di condizionamento degli spogliatoi. Inoltre, al di là di questo, l'N.C. Civitavecchia, che gestisce lo stadio, ha effettuato dei lavori al bar che è stato riaperto qualche giorno fa dopo un lungo periodo di chiusura. Ed intanto arrivano novità importanti anche per un altro impianto cittadino, il Moretti della Marta di Via del Casaletto Rosso. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo, adeguandolo al parere preventivo espresso dalla FIDAL, la Federazione di Atletica Leggera, per la messa a norma dell'impianto con l'importo complessivo di 620.000 euro che arriveranno da Regione Lazio e Cassa Depositi e Prestiti. 300.000 verranno utilizzati per la sistemazione della pista, mentre la parte restante sarà ricollocata per il sistema viario cittadino, per dei lavori di manutenzione nella zona sud della città, soprattutto al Ponte delle Quattro Porte e nell'area ex Reti Ferroviarie Italiane. Anche in questo caso, così come per il Palagalli, gli interventi vengono considerati urgenti da effettuare nel più breve tempo possibile. Siamo intervenuti nel più rapido tempo possibile, spiega l'assessore ai lavori pubblici Daniele Perello, per risistemare questi due importanti impianti e siamo davvero soddisfatti. Per il Palagalli serviva il completamento dei fondi per procedere ai lavori, su cui già c'era il finanziamento della città metropolitana. Per la pista del Moretti della Marta abbiamo risposto alle istanze della FIDAL, che chiedeva delle modifiche al progetto.